ciao ragazzi bentornati secondo video di giornata sempre da edimburgo come state mi auguro bene di cosa voglio parlarvi oggi di mercato diversi nomi nel calderone ne parliamo insieme li commentiamo insieme senza pretese che questi nomi poi diventino poi qualcosa di reale concretissimo nell'immediato stanno la poi magari si scaldano poi magari si la fredda però ne parliamo tanto per tanto c'è la pausa di mezzo ragazzi la famosa pausa che in realtà l'audio dal punto di vista calcistico ma mi dà l'opportunità di visitare città meravigliose come questa quindi non tutti i mali vengono per nuocere bentornati prima di iniziare vi invito ovviamente a commentare ditemi le vostre opinioni sotto nei commenti che sono curioso di leggervi e vi invito a mettere ovviamente la vostra iscrizione se non l'avete messa forza e coraggio mancano poco ragazzi mancano pochi iscritti ai 100k cioè sono tanti in realtà parliamo di oltre 5 mila iscritti però cazzo partire da zero e arrivare a 100k per me è stata una maratona allucinante e poi per i 100k qualcosa me ne inventerò magari vedrai il coinvolgimento diretto di qualcuno di voi partiamo subito a bomba con queste notizie la prima a quanto pare c'è una bella chiacchiera attorno a federico chiesa per quanto riguarda il rinnovo chiamato rinnovo ponte e non mi piace tanto come nome anche perché ha dei richiami di da dentista da impianti sta piccola dentista noi il ponte sapete rose no quando manca un dente tra due denti spesso mancano due denti di fila e poi c'è un dente invece intero da succedere c'è un dente che viene fatto l'impianto tra 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 quello più estremo quello di mezzo il ponticello è un dente che è attaccato a quello che ha l'impianto c'è quello che era la vite eccetera uguale stessa roba è più o meno il rinnovo di chiesa un altro anno per scacciare un pochettino la situazione scadenza di contratto asta delle altre squadre intromissioni insomma arrivare a scadenza per di comunque potere da cui c'è potere di cessione eccetera da società c'erano dei patti con il procuratore di chiesa e insomma questi patti devono essere rispettati vedremo se si arriverà anche a questo rinnovo ponte che poi ragazzi non significa nulla il calcio cambia le idee cambiano i progetti cambiano c'è la juventus in questo momento se prende che ne so faccio un esempio un altro allenatore tiago motta chiesa sta molto bene iniziano a performare come dovrebbe ragazzi che fa se ne va magari valutare il rinnovo sostanzioso contrattuale a livello di anni per cui questo rinnovo qua rimanda solamente il problema economico della juve perché c'era un patto una sorta di gentleman agreement ovvero un patto tra gentiluomini che hanno fatto affari il procuratore e la juventus quindi vedremo cosa succederà ma d'altro canto ieri proprio la gazzetta tira fuori sto nome che mi piace piace poi è da vedere nel contesto italiano quanto potrà rendere eccetera ma si parla di greenwood che può essere impiegato dalla attaccante esterno sia a destra che a sinistra non ha tante preferenze addirittura può fare la seconda appunto in caso di 352 giocatore versatile che consente qualsiasi allenatore di passare da un sistema come 352 in maniera semplice al 433 anzi forse se vogliamo è molto più versatile di chiesa dal punto di vista tattico almeno del posizionamento eccetera però è un giocatore che insomma può essere interessante alla juve hanno sicuramente drizzato un po le orecchie per via della sua utilità tattica il 22 il 22 n scusate non andrebbe a sostituire nessuno tra chiesa eccetera per cui giocatore utile ad aggiungere al roster dei dei attaccanti poi si parla anche di varie sessioni tra cui wea quindi c'è da capire anche la che cosa si farà nuovi innesti che potrebbero arrivare a zero tra cui felipe anderson che è rimasto anche molto deluso da come è andato via sarri dalla lazio a quel che si dice per cui felipe anderson potrebbe sicuramente non rinnovare il contratto e scegliere la juventus come possibile nuova società e potrebbe fare veramente la riserva che con tutte le partite che abbiamo ragazzi se cambiassimo sistema di gioco al 433 in questo momento sarebbe veramente sguarniti e poi ragazzi voglio dirvi la mia per quanto riguarda mattias sulle cioè io ho visto il gol che ha fatto con la regentina del 23 lasciate perdere che la difesa loro degli avversari è stata insufficiente carente nessuno che è andato a dargli pressione eccetera ma il gol che fa è di una difficoltà tecnica inaudita cioè lui non sta segnando con la gamba che deve tirare calciare lui segna con la gamba che in quel momento è d'appoggio a tutto il corpo serve una coordinazione clamorosa se ci provo a farlo io studiandomela subito e non in maniera istintiva non riesco ed è diverso perché comunque tu sai già che devi fare quel gesto là e il tuo corpo si applica finché quel gesto venga fatto nel migliore dei modi possibile quello là lo fa in due secondi così boom con questa gamba che è attaccata a terra l'altra è per aria ragazzi è veramente un gol clamoroso da quel punto di vista poi dove l'ha messa fil di palo vabbè poi venite dietro vabbè ma questo gol cosa dice ce ne sono tanti c'è giannetti ha segnato allo united nella partita di la griglia di neville e ci avete ragione anche voi però sulle sta dimostrando anche col frosinone di fare una stagione straordinaria io fossi nei panni della juve non darei per scontata sta roba non l'utilizzerei facilmente come carne da cannone come sulle carne da plus valenza più che carne da cannone ok perché secondo me ce ne pentiamo ho questa sensazione secondo me se vendiamo atti adesso sulle malvano al qualsiasi altra squadra all'atalanta ci mangiamo poi così dietro specie per i coppuneners che valutato 50 60 milioni mi 60 milioni coppuneners io vi dico la verità coppuneners a 35 40 può essere anche un buon affare oltre no girano meno soldi rispetto al passato inutile mi diciate alcuni lucratelli 40 e vabbè allora io vi dico ragazzi abbiamo preso iguaina a 100 milioni abbiamo preso vlaovic a 90 milioni abbiamo preso ronaldo a 110 milioni non è più quel tempo dalle vacche grasse è tutta un'altra storia spendere gran parte del budget sacrificando la gioventù fatta in casa in qualcosa che un po migliore devo essere sincero e franco mia opinione poi magari poi sulle non diventa il giocatore che pensiamo alla fine la juve ha avuto ragione ma si diventasse quel giocatore che io penso possa diventare secondo me un po le i maroni ce li mangiamo ecco questa è la mia opinione sono su mattia sulle per quanto riguarda altre cose ragazzi occhio che giuntoli a quanto pare era al tardino osservare l'amichevole tra albania e cile dove ha giocato tale mario mitai che mi auguro che non faccia prima con isai perché anche lui è un terzino sinistro ma è un terrazzino che non vorrei che fosse una sorta di copia brutta di design che a me non piace ragazzi per nulla io sapete quale se uno dei terzini che mi innamorai alla juventus prima che la juve quello prendesse ricordo questa discussione con un mio amico si chiama claudio di roma che non sentono mai da un po scrivevo io voglio l'ick steiner e lui guai allora dopo prendiamo l'ick steiner fu un acquisto clamoroso gli amavoli ecco poi va bene va bene alves che classe poi per carità da noi ha giocato metà non l'ha giocato ma quando nel finale di stagione ha deciso di giocare si diceva che cazzo è giocato vera che cazzo è giocato vera e quindi isai a meno me mi è piaciuto ma proprio zero zero della serie buoni d'orgo non mi dispiace poi c'è insomma ternandez che è fortissimo di lorenzo di marco che mi piace molto potrebbe fare il terzino veramente forte basta non è che ci sia tutta sta abbondanza di terzini anche la sto maliomità io adesso lo voglio vedere perché tanto su youtube sembrerà cazzo ne so il roberto carlos new gen che emerge poi però magari nella realtà è un isai e un po mi farebbe cascare le palle ecco franco e sincero signori da edinburgh è tutto sembra cazzo il tg del genere gentu il tg di formentera che faceva bobo fatto così quella genera gente lo faceva la buonanima di vialli per rispondere via allo stesso vieri ciao belli